Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. E' crossa contro il tempo per accendere le luci a Natale ed evitare il rischio dello stop al traffico perché il piano anti-smog ha fatto flop. L'insperato Babbo Natale che ha deciso di scrivere, lui, una letterina a commissario prefettizio per salvare la grande festa. Agli avellinesi non resta che sperare. E' tutto un casino. Ma come la vedo? La vedo nera. Spero che la città cambi. Che il commissario attualmente in carica prenda a cuore la popolazione e ci renda un po' con Natale migliore, con addobbi. Ma almeno la lambadina riusciamo a accenderla. Accenderla. Chiediamola al commissario perché con questi errori formali, questi errori formali, resteremo al buio. Resteremo al buio e si spengono le candele. Tu scendi tra le stelle. Scusa ma una un po' più allegra. Ah, più allegra. Ah, Morene Natale. E ancora? La canzone che mi raccontavano l'anno e i miei nonni, i miei 97 anni è morta, è riprata. Morene Natale, non tengo denari. Mi piglio una pippa e mi metto a fumare. E ci mangiamo, no? No, bella braciola e un litri di vino. E a facci che non giovere. Questa l'ha aggiunto tu però. E' un po' aggiunta. Buon Natale. Io vi ringrazio, auguro e tutta, voglio dire tutto qua, tu puoi parlare nelle queste interviste. E vai con Natale. E vai con Natale. Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree. Siamo sempre i lupi, e forza lupi tutta la vita. Ma lei è veramente una compilation umana. Ma io mi intendo, happy Christmas, happy Christmas, you happy Christmas. Io a che volta ti faccio un po' poca voga. Wish and Merry Christmas, wish and Merry Christmas, happy New Year. Bravo, complimenti. Io vi ringrazio Antonio e forza lupi. E mangiate buon capitone di Natale. Scendi dalle stelle, ore del cielo, che vieni questa notte. Guarda, è tutto freddo, è tutto gelo nel zona di Avellino. Ma l'anno scorso Avellino era stupendo. Era meraviglioso, ma guarda, è molto oro. Arriva l'Immacolata, però non ci saranno le luci. Chi è l'Immacolata? L'Immacolata, l'Immacolata. E chi è? La festa dell'Immacolato, si accendono le luci, o presepe, l'albero di... Ah, è il Pilai, il Pilai, il Pilai, il Pilai? Quella però non è l'Immacolata. No, volevo dire che è un Natale, è un po' così, o no? No, no, io lo vengo buono. Lo vengo bene. Ah, lo vedi bene. Esatto, ma perché? Non ci sta l'aria della festa, lei che dice? Sì, ma la luce, mica mi deve mangiare a me. Meglio un capitone. Ma adesso non ho capitone una cosa. Ma la luce... Ma diamo a sodo, dice lei. Lei come se lo immagina? È normale, è normale, è normale. Pure lei preferisce il capitone alle luci? No, è sempre bello fare la luce. E ti presepe o l'albero di Natale? L'albero di Natale. E lei invece? Un capitone? Un capitone, un vero tapiso. Happy New Year, 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 che poi significa in italiano un buon Natale. Buon Natale a tutti, happy New Year, happy New Year, happy New Year, happy New Year to you.